Una pratica sessuale insolita sta diventando una vera e propria moda. Si chiama d'acriferia, consiste nel provare il piacere sessuale per il partner piangere emotivo per così piangere il dolore. La stacchetta o comunque la situazione di disagio e il piacere che si prova è quello di essere l'aiuto al partner. La d'acriferia però è anche passiva, con quella persona che non trattiene da anime, però il piacere può che il pianto è un momento di rilascio emotivo durante il quale aumenta la produzione di indorfine. Da quell'acriferia è stata conosciuta dal grande pubblico grazie al film spagnolo, chi chi esige il senso dove una delle cose da cui si esce ogni volta che il piantò che anche la pratica è spesso associata al stato-nozionismo perché di fatto si chiude che di sofferenza altrui, inoltre di proprio piacere in questo modo, è un dominatore bull, un master, una pratica sessuale, qualche essere eseguita, o meglio qualche essere spia di sviluppo psicologico. Per questo motivo gli esperti consigliano di consultare e accompagnare il medico per questi casi di persone che fare la liga novanto da griffidia. Grazie per l'assunto e qui ho terminato, iscrivetevi un saluto.